Un posto al sole, nuove anticipazioni, Marina da sua figlia, Alberto parte con Clara. L'appuntamento con un posto al sole continua a promettere diversi colpi di scena, le nuove anticipazioni della soap opera serale in onda su Rai 3. Rivelano infatti che ci sarà spazio per la partenza di Marina, la quale deciderà di passare le feste con sua figlia. Anche per Alberto e Clara arriverà il momento di riprendere in mano le redini del loro legame, in vista del periodo delle feste natalizie. I due decideranno di concedersi una vacanza insieme al loro amato figlioletto. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di un posto al sole rivelano che nel corso degli appuntamenti di fine dicembre 2022, la famiglia Giordano si riunirà al gran completo per poter festeggiare tutti insieme le feste natalizie. Presenti anche Guido e Mariella con il piccolo Lollo e la nipote Speranza con la famiglia Poggi e i coniugi Boschi. Giulia, intanto, sarà alle prese con la nipotina Bianca che verrà consolata dalla nonna per la difficile situazione che sta vivendo a scuola. La quale continuerà a metterla a dura prova. Occhi puntati anche su Filippo Sartori che in questo finale del 2022, sarà alle prese con le due figlie Irene ed Elisabetta ma dovrà fare conti anche con la presenza delle due cognate che non passerà affatto inosservata. Nicaela e Manuela promettono grandi colpi di scena e scintille anche nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale di Rai 3, campione di ascolti nell'ex Esprime Time. Spazio poi alle vicende dell'avvocato Alberto Palladini, le nuove anticipazioni di un posto al sole rivelano che l'uomo deciderà di partire con Clara e il figlioletto Federico. I tre, quindi, si concederanno una vacanza tutta per loro e questo permetterà ad Alberto e Clara di poter riprendere in mano le redini della loro vita. Dopo che i due si sono ritrovati a vivere un momento di grande difficoltà. E poi ancora, le nuove anticipazioni di un posto al sole di questo 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina Giordano. La quale deciderà di allontanarsi da Napoli per il periodo delle feste. La signora Giordano, infatti, dopo aver vissuto un periodo turbolento della sua vita, deciderà di trasferirsi per qualche tempo a Londra, per festeggiare assieme a sua figlia Elena. Alice, nipote di Marina e figlia di Elena, deciderà di restare a Napoli e in essenza di sua nonna organizzerà una festa speciale di Capodanno. Nunzio prenderà parte a tale evento? Lo scopriremo nel corso dei prossimi e tesissimi episodi della SOV di Rai3. Grazie. 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 Grazie.